Siamo ormai ai momenti salienti della campagna elettorale statunitense. Si decide ora il destino degli Stati Uniti per i prossimi anni. La mia posizione già la sapete, ritengo gli Stati Uniti sul piano geopolitico il principale nemico perché fa autore della Quarta Guerra Mondiale, successiva alla Terza, la Guerra Fredda, e ora indirizzata contro tutti gli Stati che eroicamente resistono all'atlantizzazione globalista del mondo intero. E tuttavia sul piano della politica interna, pur ritenendo sia Biden sia Trump due espressioni del liberismo capitalistico, ritengo che Biden sia decisamente peggiore rispetto a Trump, giacché i danni che Biden può fare al sistema mondo, oltre che agli Stati Uniti stessi, sono decisamente maggiori rispetto a quelli che pure farà e potrà fare Donald Trump. Per questo non mi stancherò di ripetere che peggio di Donald Trump può esservi solo Biden. Ciò detto, credo che ci siano anche dei colpi di scena in questa campagna elettorale di cui non possiamo fare a meno di parlare. Anzitutto Biden è appoggiato dai colossi del capitale, dalle grandi compagnie finanziarie, dal sistema del capitale cosmopolita. Per parte sua Trump è appoggiato dalle masse nazionali popolari, che vedono in lui, se non il proprio riferimento, comunque un nemico meno grave, meno pericoloso rispetto a Biden. E infatti Trump finora ha dovuto in parte tenere in conto del popolo, perché il popolo è l'unica forma di riferimento che ha Trump, e quindi deve in qualche modo fare volente o nolente politiche in qualche modo popolari. Trump rappresenta, se volete, un vecchio capitalismo borghese, nazionale, laddove Biden rappresenta per parte sua il nuovo capitalismo finanziario cosmopolita e aggressivo. Sono due figure del capitalismo in lotta fra loro, intendiamoci. Da un lato un capitalismo borghese, produttivo, della piccola borghesia, Trump, e dall'altro un capitale cinico, multinazionale, finanziario, delle grandi classi aristocratico liquide e finanziarie, Biden. Ecco che cosa è davvero in palio in questa lotta sul piano nazionale americano. Sul piano internazionale invece è in lizza il conflitto tra Biden, che significherà di nuovo guerre su scala planetaria, in nome dei diritti umani, della democrazia d'asporto, e Trump invece che potrà auspicabilmente essere il contenimento dei conflitti o una loro diffusione meno endemica rispetto a quella che si avrebbe se vincesse Biden.